Non è molto facile avere tantissime persone davanti perché improvvisare, l'emozione, molte volte non ti vengono le parole, come viene, viene. Comunque io vi ringrazio per essere qua anche questa sera a questa edizione di Folk Mare, ringrazio il Comune, tutta l'amministrazione comunale, Zanese, la direttrice o presidente della Proloco, il presidente del gruppo Folk e ringrazio tutti quanti per essere qua, farci compagnia. Iniziamo subito la serata con il gruppo Folk di Santa Sofia di Tertenia che apre la serata come padroni di casa. Un bellissimo applauso al gruppo Folk Santa Sofia di Tertenia. E si esibiranno con appunto il ballo di Tertenia dove il maestro Sandro Frau, maestro suonatore delle Launedans, insieme a Massimo Azzori, maestro Massimo Azzori, si esibiranno per noi con il ballo di Tertenia. Applauso a Massimo Azzori, si esibiranno per noi con il ballo di Tertenia. Azzori, si esibiranno per noi con il ballo di Tertenia. Azzori, si esibiranno per noi con il ballo di Tertenia. Azzori, si esibiranno per noi con il ballo di Tertenia. Azzori, si esibiranno per noi con il ballo di Tertenia. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.